Il primo piccolo grande mattone verso il sogno è stato messo, anche se per la mole di gioco prodotte e le occasioni fatturate poteva anche andare meglio. Nell'andata del primo turno dei play-off nazionali di eccellenza il Fossombrone batte il Certosa di misura, con una rete di pagliari quasi allo scadere, ma soprattutto per quello che Metaorenzi hanno fatto vedere nel corso del primo tempo, nel quale hanno spinto davvero di brutto, il risultato poteva essere decisamente più ampio. Davanti ad un Bonci, quasi sold out con 800 spettatori in tribuna, i padroni di casa partono a tutta. Sul traversone di Battisti, nei pressi del secondo palo, una sponda favorisce Pagliari, la cui deviazione di testa è salvata nei pressi della linea di porta da un difensore romano. Gli ospiti ci provano, con una conclusione ciabattata sul fondo dopo l'uscita per infortunio di Ferrari, sostituito da Colasanti, poi Marini è attento e blocca il tutto, su un tiro scagliato comunque da posizione defilata. Ancora Pagliari, di un soffio, non riesce di testa a deviare da posizione assolutamente favorevole, poi al 28esimo la più nitida delle palle gol per i forze empronesi, con il portiere laziale superlativo a respingere la prima botta da distanza ravvicinata ed un difensore poi a spazzare. Il Certosa sembra in affanne sul punto di capitolare, anche se Marco Antonini è chiamato ad un intervento non semplicissimo su questa conclusione al volo. Ancora un traversone dalla tre quarti, sul quale la difesa degli ospiti riesce a deviare in corner. È l'episodio che sostanzialmente chiude un emozionante primo tempo. Nella ripresa i cambi dei due tecnici interrompono la noia, di occasioni davvero poche, con partita che resta comunque tesa nell'equilibrio. Situazione di stallo che salta 5 minuti dal termine, dormita colossale della difesa ospite, assist per Pagliari che da ottima posizione realizza il gol decisivo di giornata. Buona la prima dunque per il Fosso che si affaccia alla gara di ritorno con un gol di vantaggio. Il match si giocherà domenica prossima a 100 celle, per i Blues comunque il coefficiente di difficoltà si presenta decisamente elevato.